Nel corso di un incontro in cittadella regionale è stato presentato un accordo di collaborazione tra la Ferrero e l'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, l'ARSAC, che prevede la realizzazione di una serie di iniziative per promuovere lo sviluppo qualitativo e quantitativo della filiera della nocciola nazionale, in particolare di quella calabrese, un accordo che nasce con l'obiettivo di ottenere la produzione di una nocciola di qualità, anche tramite l'uso di nuove tecnologie e della cooperazione nei processi produttivi. Sicuramente ARSAC sperimenta, ARSAC farà insieme a Ferrero delle campi, cercheremo di trovare nuove possibilità, tecnologie da sperimentare insieme. Tutto sta nella divulgazione poi alla fine di questa sperimentazione e far capire che è una possibilità concreta di investimento e di riuscita. L'imprenditoria agricola calabrese ha fatto passi da gigante, oggi insomma non ha nulla da invidiare ad altre imprese, dei altri territori calabresi, italiani e anche internazionali, vuole dimostrarlo però avendo naturalmente tranquillità sul ritorno del reddito, quindi insomma è un momento importante e Ferrero in questo può essere un partner importante. La Calabria è la quinta regione per produzione di nocciole, se si considera che l'Italia attualmente importa una quantità di nocciole, pare circa il 50% del proprio fabbisogno interno, è evidente l'importanza di favorire lo sviluppo della produzione e del reddito generato dal settore, incrementando l'occupazione e valorizzando le vocazioni produttive del territorio. Beh, è una declinazione del percorso sulla frutta guscio nella nostra regione, noi abbiamo licenziato un primo bando con una gradatoria che ha finanziato 120 ettari di nuovi noccioletti ma anche tanti altri ettari di frutta guscio, abbiamo adesso in corso un altro bando appena scaduto e probabilmente ci saranno nuovi ettari finanziati perché abbiamo voluto assecondare questo accordo fra Arsac e Ferrero per fare in modo che ci sia anche in Calabria una filiera della nocciola che possa collaborare con questa multinazionale e poi aprire degli scenari importanti, ricordiamo che la nostra è una regione nella quale ci sarà la ZES, per cui spero che finalmente ci siano le attenzioni giuste da parte delle multinazionali anche del nostro paese nei confronti di una regione come la nostra.